Prego, stai qua vicino a noi. Ma anche provare a identificare possibili e concreti passi. I passi sono stati avuti in due direzioni, come vi anticipavo. I due passi più importanti, poi chiaramente chi parlerà potrà fare anche delle altre proposte, i due passi su cui ci invita a riflettere anche specificamente AICA, sono da una parte il lato formazione, educazione. Usarei proprio più specificamente la parola educazione, perché qua soprattutto parlo di etica è più educazione che qualunque altra cosa. Quindi, che cosa può fare in generale l'Accademia italiana, non solo l'Accademia, per introdurre questi temi all'interno della educazione, nei nostri futuri ingegneri, futuri informatici, tutti quelli che hanno a che fare con il digitale, che le discipline stanno aumentando costantemente di quelli che hanno a che fare con il digitale, e il secondo lato invece i professionisti. Avevo sentito parlare di code ethics e code conduit, quindi specifiche regole e ontologiche professionali per gli informatici, quindi i cotei professionali di cui ho parlato i due interventi della mattina, in particolare Reckland-Brady. Quindi, ovviamente qualunque altra osservazione benvenuta sotto questo titolo molto ampio che ci siamo dati oggi. Allora, il formato è un formato impegnativo, perché è una tavola rotonda in cui siamo in ben otto a parlare, oltre a me quattro persone sono fisicamente presenti al tavolo, altre tre persone, se succederanno, non appena abbiamo finito questo primo round. L'obiettivo è stare rigorosamente, visto anche l'ora, nelle due ore che ci siamo dati, che vuol dire che chi parlerà avrà al massimo 12 minuti, quindi lasciamo tre minuti a testa per poi un'interazione col pubblico, un'interazione anche immediata, puntuale a quello che diranno gli singoli speaker. Quindi, quando vedrete, cari speaker o audience, io che mi agito e muovo questo foglio, vuol dire che vi sta avvicinando i 12 minuti e che è ora di chiudere il vostro intervento. Queste sono le regole del gioco, vi anticipo che le persone che parteciperanno alla terza fase, quindi scusate, alla seconda fase, quelle che saliranno sul podio subito dopo, sono Massimo Durante, che è seduto qua davanti, il professor Marco Mezzanama qui davanti a me, il professor Issa Franco D'Agostini, quindi sono già pronti in prima fila per prendere la loro postazione. Ciò detto, darei la parola al presidente Lamborghini, che è seduto qui alla mia sinistra, che ha presentato, introdotto la giornata di oggi e che ora vediamo cosa è da dirci dopo le tre lezioni. Ma io poi veramente posso dire qualcosa anche alla conclusione, forse no? In realtà, ecco, oggi è stato estremamente utile e importante, abbiamo sentito quello che abbiamo sentito, soprattutto perché, come diceva il professor De Martini, gli obiettivi di questo incontro da parte di Eicher sono di imparare veramente come muoversi su due fronti, come sono stati indicati, uno è quello del capire come si fa a introdurre una computer etics nei processi formativi, questo a tutti i livelli, dico, poi partiamo dall'università, cioè che forma evidentemente i formatori, in primo luogo, che forma quelli che poi sviluppano anche i programmi e quindi un discorso, ma soprattutto i formatori, che poi entrano nei diversi livelli di formazione scolastica e questo è uno dei punti fondamentali su cui lavorare, proprio perché ormai il discorso delle tecnologie digitali, io le chiamo tecnologie digitali piuttosto che informati, WST, sono termini che sono un po' più evoluti, questo del discorso di come entriamo in un nuovo scenario, è uno scenario pervasivo, estremamente pervasivo. La scuola effettivamente diventa il punto di riferimento, la scuola a tutti i livelli, a cominciare ad esempio dalle scuole materne, non soltanto dalle primarie, proprio perché i ragazzi oggi hanno una velocità di apprendimento delle tecnologie, un apprendimento molto superficiale, ma certamente tale da modificare, anche ci sono degli studi interessanti, il professor Longo di Trieste ha fatto degli studi interessantissimi sui cambiamenti, Marco Ghe e tutti quanti hanno fatto studi interessanti sui cambiamenti proprio, addirittura quasi fisiologici, che derivano dall'utilizzo continuativo delle tecnologie digitali da parte dei bambini, della prima infanzia, fin dai tre anni. Allora su questo credo che sarebbe molto importante, ed è un impegno che sta portando avanti, vogliamo avere il vostro aiuto, l'aiuto per quanto riguarda come entrare nella logica dei formatori, come riuscire a modificare i processi formativi per i formatori in modo tale che questi siano in grado poi di modificare i loro sistemi didattici e quindi entrare in un discorso che richiede una modifica radicale dei modelli didattici, che sono in genere one to many, un po' tipo la televisione, al discorso many to many, oppure addirittura un'interazione ancora più massiva, l'integrazione tra docenti e studenti con l'uso delle tecnologie. Coinvolgenti anche poi il sistema intorno, io sono un olivettiano, quindi parlo di community anche, non sono soltanto l'ambiente scolastico, ma bisogna che veramente si crei un sistema che interagisce, Casiano Livetti voleva creare una comunità di pari in termini di culture, che non fosse soltanto nella fabbrica ma anche fuori dalla fabbrica, nell'ambiente in cui la gente vive e noi dobbiamo pensare che la scuola non può essere un elemento chiuso, un sistema chiuso al suo interno che non interagisce con l'ambiente, con le famiglie, con la società che c'è nel intorno della scuola. Quindi è veramente un processo molto complesso e oggi abbiamo sentito che ha dato veramente un aiuto nell'ammettare la nostra ignoranza e confusione di incertezza, però anche ci ha aiutato a trovare dei metodi per riuscire a nascoltare questa grande nuova complessità. Ecco, la seconda cosa su cui effettivamente già Soghevattin ha intervenuto è questo, noi abbiamo bisogno, visto che AICA sta diventando, deve diventare anche per una rete normativa nata nel 2013 quest'anno che riguarda le sezioni professionisti non riconosciuti è quella di diventare una sezione di professionisti informatici. L'informatico, scusate, non esiste in Italia. Che cos'è l'informatico? Quando si parla di programmatori, che cos'è il programmatore? Oggi la gente dice, ma pensate che anche a livello politico si dice, ma ormai non c'è più bisogno di studiare l'informatico. Tanto tutti sono sbalettoni su internet, no? Perché dobbiamo fare ancora nei corsi? Perché stanno tolto dai licei? Perché dice, ma tanto l'informatica e i ragazzi la sanno meglio di queste cose, no? È un errore gravissimo che si sta compiendo. È un errore gravissimo che sta portando, da un lato, ad una ignoranza veramente dal punto di vista delle conoscenze informatiche in tutte le discipline di insegnamento, ma sta portando un discorso di grave skill gap nel nostro paese. In Europa è stato calcolato in 700.000 persone che cae. In Italia come minimo siamo su 70-100.000 persone in cui c'è un gap tra domande e offerte. Pensate cosa vuol dire avere distrutto, purtroppo io ho avuto anche questa esperienza, distruggere industrie italiane importanti dell'informatica e devo dire che questo ha portato alla creazione di una quantità di informatici senza patria, senza un'industria dietro le spalle, che vivono faticosamente la loro attività, nel senso di non riuscire più ad aggiornarsi, non riuscire più a fare ricerca, non riuscire più a entrare in un sistema che rivalorizzi. Abbiamo avuto esperienze in aica pazzesche, gli informatici utilizzati dalle procure della Repubblica per le indagini giudiziarie che sono pagati 4 euro all'ora, altro che una badante. Allora qui c'è da fare un discorso molto grosso perché se no è inutile che facciamo l'agenda digitale, parliamo di queste belle cose, parliamo di fare la carta di identità elettronica, parliamo di fare tantissime belle cose fondamentali, la pubblica amministrazione che diventa un sistema assolutamente di interazione online con i cittadini e con le imprese, quando non abbiamo le persone, le competenze. Questo è il punto più critico, per cui è evidente allora qui che c'è da fare un grosso lavoro insieme, università, associazioni come aica che ha l'obiettivo, si pone l'obiettivo di creare delle competenze, di creare delle professionalità riconosciute a livello europeo, partendo ad esempio dalle certificazioni EUCIP e dalle CF che in questo momento la Commissione europea sta portando avanti, il framework di qualificazione delle competenze, perché se no andremo sempre indietro e non riusciremo a costruire nulla, perché mancano delle risorse le persone. E qui il discorso importante è l'introduzione, e oggi abbiamo imparato molto dal discorso della doppia codice che dobbiamo inserire nelle certificazioni dei professionisti per fare dei professionisti. Il codice di etica e il codice di condotto, che sono due cose che ci hanno spiegato molto chiaramente che devono stare insieme, non possono restare isolati, il codice di etica come principi fondamentali su cui basare la costruzione del professionista e poi il codice di condotta da verificare periodicamente così come le competenze. Questo è molto importante per dare un senso di serietà e di importanza in questa direzione. credo che, come dicevo prima, effettivamente noi dovremmo cercare insieme a Nexa di continuare su questa strada, proprio perché abbiamo bisogno, non è più un problema soltanto di un momento su cui discutiamo, troviamo delle possibilità di lavoro, ma qui è un problema che riguarda tutta la nostra società. E quindi dobbiamo allargare se possibile il centro per portare questo discorso, allargandola e anche mettendo assieme quelle che sono le competenze, si parlava prima del codice etico della professione sanitaria, che ha un codice etico certamente, i medici hanno un codice etico, allora a questo punto l'informatico che entra nella sanità, che si integra nell'attività degli operatori sanitari, deve unire assieme il codice etico della base sanitaria, dei medici con quello dell'informatico, quindi ritrovare un'identità di codice e di etica informatica che si sposa assolutamente con quella delle singole applicazioni dove l'informatica trova stato. all'estero, so che continua a avere frequenti contatti e ho dimostrato anche l'incontro di oggi con il nostro Paese. Che impressioni facciamo? A che punto è la nostra discussione? Sì, io vorrei partire da una convergenza completa di quello che ha detto Amorini perché mi sembra la strategia giusta per sviluppare una sana professionalizzazione del ruolo dell'informatico del nostro Paese. C'è sempre il rischio, come in tutti i Paesi, come in tutti i contesti, di esagerare nel poi chiudersi intorno a chi è e chi non è il determinato professionista di che cosa, ma questo è un rischio di fare la pena voi. E quindi sono molto d'accordo che, ma magari che un giorno di questi ci dovesse essere un albo e altre cose del genere che dovesse essere rimessi in discussione. Su questo io sarei molto, molto d'accordo. Aggiungerei, se posso, a finire la discussione, una distinzione che mi sembra che oggi sia immersa abbastanza chiaramente tra due ambiti che sono complementari, si danno a mano la metafora che volete utilizzare a vostro piacimento, ma che sono anche distinti. E uno, per metterla in maniera un po' meno concettuale, da un lato noi abbiamo, in termini di computer ethics in generale, fare riferimento al sottotitolo del convegno, una sorta di deficit concettuale. Cioè, il mondo è cambiato sotto le nostre idee, più velocemente, dei nostri parametri di idee, di concetti, di quadro generale con il quale noi capiamo come funziona il mondo e ci troviamo un po' schiazzati. È come se qualcuno avessi tirato il tappeto. Questo momento di, oddio, abbiamo verso l'equilibrio, ecco, questo deficit concettuale lo viviamo giornalmente. È il non ci sto capendo di niente, sostanzialmente vissuto da chiunque in questa stanza abbia avuto contatti seri o informali. O questo deficit, purtroppo, funziona un po', come abbiamo detto anche in precedenza, è una sorta di ricorsa, cosa? Perché tanto più noi velocemente sviluppiamo le tecnologie, ci sta andando una mano a fare tantissime belle cose, tanto maggiore questo deficit sembra essere incrementato. Ora, questo non voglio dare un'impressione negativa, per cui non c'è soluzione questa sorta di ricorsato di armo, ma è vero che c'è tanto lavoro da fare sul versante di quali sono gli strumenti concettuali che ci permettono di, uno, capire e, due, disegnare le soluzioni giuste e capire è utile, ma poi se ci si fa niente, per questo capire, resta anche un po' sterile. Parlando agli ingegneri, io direi, appunto, un'ingegneria concettuale che quindi fa tutti i due lavori, di analisi e sintesi, non di analisi soltanto, e qui parla di quei pochi filosofi che stanno qua, che non miscono qualità di pervenire. Ora, questo da un lato, quindi da un lato noi abbiamo, questa è la distinzione che vorrei fare, ma vi dico, la distinzione che non è una dicotomia, ma è capire dove stanno le cose, deficit concettuale, dall'altro c'è un deficit formativo che abbiamo visto essere cruciale e non è un caso che le due cose avvengano al contempo, cioè il deficit formativo è anche un deficit ovviamente di istruzione, di educazione fin dall'inizio, di consapevolezza di quali sono problemi più ampi che vanno di là del codice da produrre entro domani o del nuovo gadget che deve essere messo in commercio entro un anno. Ora, questi due deficit, il deficit concettuale, che se volete poi finisce a essere, per essere, andare a finire sul tuo discorso, filosofia, e il deficit più legato alla formazione, in compasso, insomma, educazione e quindi della funzione cruciale formativa dell'associazione, questi dovevano andare insieme, cioè noi dobbiamo risolvere, o si risolvono un po' tutti e due insieme, oppure è il classico contenitore d'acqua dove uno mette un dito da una parte e l'acqua esce dall'altra, avrà il dito un metto dall'altra e interdiamo, diciamo, un contenitore dall'altra, quindi possiamo risolvere il deficit concettuale senza risolvere quel formativo e quel formativo si risolve contanto se non abbiamo insegnanti in grado di spiegare ai nostri studenti come funzionano le cose, quindi il deficit concettuale è tenuto sotto controllo. Come si fa questo lavoro? Ecco io qui, avverto chi non è consapevole dei potenziali contrasti che avvengono dietro le quinte, io sarei per una divisione del lavoro, cioè non mescolerei sotto la compiuta ethics tutti e due i deficit, o noi abbiamo spazi dove si lavora sul deficit concettuale in missione di poi dare la mano al deficit formativo e spazi su cui si lavora sul deficit formativo per poi dare la mano, oppure succede una gran confusione e qual è la confusione? Con questo vorrei più dire, non voglio prendere troppo dentro. Non sto dicendo che qualcuno è colpevole di questa confusione, sto dicendo che c'è questo rischio, una sorta di trappola che dobbiamo tenere sotto controllo. La trappola è che la compiuta ethics, non nel sottotitolo, ma nel titolo principale del convegno, sia ridotta a codice professionale, che poi il codice professionale sia ridotto a valutazione e polizioni. Una versante giuridico che tutta la persona sia ridotta a valutazione e polizioni. Le due cose si incrociano e quindi la compiuta ethics è come facciamo a punire l'informatico quando sbaglia. Non è possibile. Cioè, con tutto quello che ci siamo detti oggi. Questo però vuol dire che è un riduzionismo cieco, pieco, che aumenta il problema. È esattamente quello che il politico stupido di turno vorrebbe che facessimo. Perché poi lo stupido di turno dice, ma qual è il problema? Il problema è che questi hanno sbagliato questo codice di linea, sai facciamo la galera, questo che si sbaglia da dieci anni, oppure monta. Quello che abbiamo risolto con questa operazione è fare tanti bellissimi documenti, di cui Rosario ci ricordavo stamattina, che vengono messi lì. C'è tutta una filosofia della soddisfazione di queste norme nel ticking the box e abbiamo chiuso il discorso. Cioè non abbiamo risolto né il deficit percentuale, perché ne sapremmo meno di prima, né il deficit, quello formativo. Allora questa trappola che sta davanti a noi, questa trappola che secondo me bisogna a tutti i costi evitare. Questa sarebbe la catastrofe. E questo è successo purtroppo in Gran Bretagna. Quando Sandro ci ricordava che le cose non sono andate bene in Gran Bretagna è perché lo abbiamo fatto esattamente. No, scusate, loro hanno fatto esattamente questo. Cioè si sono illusi che riducendo il diritto a valutazione e punizione e la computer ethics a codice, le due cose si sposassero risolvere e si potessero risolvere con quanto penalizziamo chi sbaglia, ci siamo persi di vista i due problemi fondamentali. A quel punto, e chiudolmente avvento, non si è più preso in sé. Né da chi ha a cuore il codice formativo, scusate, il deficit formativo, perché non abbiamo risolto, non certamente un codice professionale, né da chi poi lavora su un altro versante per andare a che fare con il codice, una notte, con, passiamo una giornata lunga, con il deficit concettuale. Cioè, chi aveva a cuore quei problemi resta deluso dall'ostruzione e va altro. Questo sarebbe, se posso permettermi, l'output peggiore di una bellissima iniziativa. Ecco, di fronte a questa trappola, chiudo qui e vorrei sollevare una bandiera rossa di attenzione. Qui c'è un potenziale di errori che ha costato molto con il nostro colegio in Italia. Non ricadiamo lo stesso errore, impariamo l'altro. Ok? Un commento che l'Italia non è italiana, non sono particolarmente bravi a imparare tra le lezioni e degli errori altrui. Tipicamente ricopriamo con dieci anni di ritardo quello che hanno fatto gli sbagliati gli altri, però speriamo che questa sia un'eccezione. Ma fai benissimo, l'ultimismo non devono perderlo. Allora, a meno che non ci sia qualcuno con l'urgentissima visione di commentare questo di Luciano Flori e di passare la parola a Norberto Patrignani. Prego. Concordo ovviamente con Luciano Flori, in essenza che qui alla Politecnica in Torino, come sapete nel 2008, con una migliaia di difficoltà, che stiamo a parlare adesso, abbiamo introdotto questo corso Computer Ethics per PhD students, anzi in inglese, abbiamo studente da tutto il mondo, un corso di 30 ore, nel quale, diciamo parliamo di etica applicata, io sono un practitioner, sono un ex libretiano, non ci sono ancora libretti. E quando ho bisogno di basi teoriche, devo dire, ho due maestre, da una parte Lessig, con il suo Codis Law, che ci ha insegnato come nel nuovo mondo noi incorporiamo sempre di più la norma nel codice, e quindi la maggiore responsabilità degli scrivi del codice, il maggiore bisogno di stimare la scrittura del codice di fronte alla società, e il concetto di entropia di Luciano Flori nell'infosfera. Questo sono i miei due. Quando ho bisogno di affondare un po' nella teoria, poi mi piace tantissimo rileggere sempre volentieri il libro della collega D'Agostini sui paradossi, che è il mio. Cosa facciamo in questo corso? Allora, proprio per evitare di scadere nei 10 comandamenti o nel corso di computer etics generiamo domande. Cioè, l'obiettivo è far uscire, introdurre il dubbio degli ingegneri, far uscire questi ragazzi con più domande di che dove sono andati. Ovviamente abbiamo una metodologia che è quella che abbiamo sviluppato con tanti colleghi all'internazionale, quando Volkerman, dove citava Stantina, Simon Rosersson, e la metodologia è essenzialmente quella di riuscire a costruire di fronte a uno scenario la stakeholder network. Cioè, quali sono tutti gli stakeholder che vadano oltre, possono andare oltre la semplice videotastiera nel quale è abituato a lavorare l'informatico. E quindi riuscire a capire che la propria opera, la propria ingegna verrà applicata in contesti molto più vasti, che non siano solo l'aspetto tecnologico. Questo è, diciamo, l'obiettivo principale che ci vogliamo. Quindi costruiamo questo stakeholder network dove andiamo a individuare tutti i vari agenti che contribuiscono, anche virtuali, e poi le relazioni tra di loro. E poi, sopra questo stakeholder, facciamo i ragionamenti, delle domande, delle questioni. Cioè, quali sono le questioni che secondo voi possono emergere in questo scenario? E quindi un approccio un po' bottonato. Insieme a loro usciamo con una serie di, diciamo, di problemi. Quindi costruire dello scenario, andare a vedere le ethical issues che possono esserci e ipotizzare possibili azioni per affrontare, appunto, questi dilemmi. Nella parte teorica, diciamo, riusciamo, anche grazie al concetto di entropia e al coding slow di Lessig, a passare da una computer ethics che era uno strumento per colmare il cosiddetto policy vacuum di Moore, no? Siamo sempre alla rincorsa e noi dobbiamo riuscire a colmare questo che è. Passare, invece, a una seconda, possiamo dire, a una seconda visione del computer ethics, un po' più positiva, un po' più proattiva, appunto, risponde alla domanda ma qual è, allora, la strada giusta, non solo andare a punire le errori, ma qual è la strada giusta? Ecco, quindi, che il concetto di entropia e di flori può esserci utile, perché, appunto, riuscire a ridurre l'entropia e l'infosfera è una linea guida, no? E nell'ultima conferenza internazionale dedicata al computer esetico in Danimarca, in giugno di quest'anno, insieme alla collega White House abbiamo introdotto, appunto, sempre su queste basi, una visione positiva dell'informatica che potrebbe essere sintetizzata da molto slow tech, e slow tech, appunto, non a caso, apprendendo in prestito da Slow Food i tre concetti di buono, pulito e giusto, allora, ci siamo posti alla domanda, ma può esistere un'informatica buona, pulita e giusta? L'informatica buona è quella progettata intorno all'umano, ovviamente, con un approccio partecipativo, andando a vedere tutti i problemi di technology assessment, di affidabilità, curare la human computer interaction e così via, quindi una good ICT, quello potrebbe essere una clean ICT, perché l'ICT, quest'anno a Zurico c'è stata per la prima volta la conferenza internazionale sull'impatto ambientale dell'informatica, perché anche l'informatica, nella sua catena di produzione del microprocessorio elettorale, fino al consumo dell'energia nel data center, fino alla fine del ciclo di vita, dove non sappiamo dov' aumentare il rifiuto elettronico, ha un impatto significativo sull'ambiente, incomincia ad essere stimata attorno al 3% della CO2, della generale informatica, quindi paragonabile a quelle delle linee aeree, quindi una clean ICT, può esistere una clean ICT, può esistere un concetto di recycle by design, cioè non solo privacy by design, ma fin dalla fase di progettazione tenere conto della ciclo di vita anche materiale di questi oggetti, fino ad arrivare a una fair ICT, cioè una ICT giusta, una ICT che tenga conto di tutti gli attori coinvolti, fino ad arrivare a chi fisicamente costruisce i lavoratori nelle fabbriche che oggi sono, direi, dei campi di prigionia dove vengono costruiti questi oggetti. E allora dovremo prima o poi affrontare anche quest'altro aspetto dell'informatica, chi costruisce fisicamente i ricercetti per noi, sotto quali condizioni, con quale contratto sociale, con quale remunerazione, con quale giustizia, per sinceramente. Quindi, in questa visione, diciamo, per sintetizzare il mio intervento, da una parte abbiamo questo approccio non tanto a comandamenti, ma a domande, a problematiche. Cioè, usciamo dal corso di computeresis con una serie di mani e con una capacità, almeno, di costruire una seconda torta attorno a quello che facciamo. E dall'altra, cominciare a vedere delle linee guida, delle cose in positivo, che, appunto, possono essere sintetizzate in questo concetto di slow tech, che è appunto una good ICT, una clean ICT, una fair ICT, che è sintetizzata, appunto, nell'articolo che abbiamo presentato a Eticompo 2013 in Marimarca. Grazie. Grazie a tutti, a tutti. Grazie a tutti. Passerei quindi al professor Meo. Prego. Senza luce dicono come computer, senza CPU. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ringrazio Ness di cui faccio parlare ringrazio soprattutto Aica anche perché Aica con gli inviti ripetuti che mi trasmette dimostra di avermi perdonato per un peccato gravissimo che ho nei confronti di Aica infatti alcuni anni fa stavo per essere eletto presidente di Aica quando si scoprì che a uso c'è un nuovo uso non per volontà diretta ma per l'indigenza dunque entro subito in argomento alcuni mesi fa nel mese di marzo se ricordo bene al teatro Carignano si rivolse un interessantissimo dibattito che chiudeva le manifestazioni che noi qui a Torino chiamiamo le manifestazioni della biennale della democrazia a quei dibattito parteciparono prevalentemente buon Carlo Stemassi e Stefano Rodotano fu estremamente interessante la loro presentazione in quanto in quella presentazione essi misero in evidenza il fatto che internet è di importanza esclusiva da tutti i punti di vista non soltanto dal punto di vista scientifico e tecnologico ma anche dal punto di vista culturale, industriale, economico, sociale e politico sulla base di quella discussione essi giunsero alla conclusione che è necessario formalizzare il fatto che l'accesso ad internet è un diritto universale che deve essere garantito a tutti i cittadini addirittura proposero non ricordo bene se in quella circostanza è una circostanza successiva di introdurre questa proposizione dentro la Costituzione del nostro Paese io sono perfettamente d'accordo con le loro conclusioni la mia relazione però si sopperberà sulle difficoltà pratiche che si incontrano nell'esercitare questo diritto adesso per ragioni di tempo non posso soffermarmi sul racconto che avrei avuto intenzione di farvi ma che farò dopo la riunione più tardi agli amici su quella che è stata la mia esperienza su di un progetto volto a garantire la videoconferenza ai bambini ammalati dove le difficoltà sono state enorme tutte quelle difficoltà sono legate ad una cosa e ad una cosa soltanto i processi di quella situazione ai quali è sottoposto internet da sempre a partire per esempio per quanto che c'è nel nostro Paese dalla privatizzazione della telecom io ricordo che mi ero battuto contro la privatizzazione della telecom però non conto niente erano d'accordo tutti dall'estrema destra alla sinistra più avanzata forse non estrema un'autentica follia collettiva il frutto di quella follia collettiva è che paghiamo le telefonate più degli altri Paesi del mondo che paghiamo di short message a prezzi che sono centinaia di volte superiore al costo industriale di quel servizio che sul nostro Paese sul nostro territorio usando le risorse di investimenti fatti dal nostro Paese nell'arco di molti decenni fanno business inglesi, egiziani, cinesi e presto faranno business come tutti sappiamo gli spagnoli di telecom va bene c'è una serie di argomenti collegati a questo questi processi di privatizzazione a questa follia collettiva bene per riassumerli guadagnando tempo ho preparato come ovvio parlandosi di etica i dieci comandamenti quando manca in quattro mesi mi lo dici allora primo comandamento non avrai altro Dio fuori di me recita l'Antico Testamento in principio era il verbo il verbo era presso Dio e il verbo era Dio il verbo chiaramente non è una locuzione sintattica che altrimenti si presta a quella battuta all'inizio del verbo poi viene il punto del progetto il verbo è una traduzione sbagliata di una parola greca logos logos è la conoscenza che, affermo io deve essere universale e da bene Adamo e Deva furono cacciati dal paradiso terrestre perché avevano tentato di sottrarre una mela dall'albero della conoscenza ebbene i dieci milioni o quasi di brevetti depositati negli ultimi anni verso l'ufficio brevetti degli Stati Uniti sono dieci milioni di mele sottratti all'albero della conoscenza secondo comandamento non bestemmiare secondo il demonio il mercato è Dio a mio giudizio non è Dio porto a palazzo e meno che mai non è Dio terzo comandamento ricordati di certificare le feste sono un fanatico ma non arrivo al punto di dire che certificare le feste vuol dire andare lì un stay penso invece a quella grande festa che è la scuola l'importanza che ha la scuola e a questo proposito voglio citare il paradosso di Zika così lo chiamo io è un paradosso che ha introdotto nella lezione di una settimana fa in occasione dell'inaugurazione solenne dell'anno accademico dell'Accademia delle Scienze in quella circostanza Zika osservata primo abbiamo delle tecnologie fantastiche per garantire una didattica di altissimo livello di tipo interattivo e di tipo multimediale secondo quasi tutti i bambini e quasi tutti i ragazzi sono nativi digitali e quindi sanno usare queste tecnologie in modo eccezionale la mia di tutina Francesca che ora ha sei anni ma un anno e mezzo fa non aveva ancora cinque anni e sapeva leggere solo qualche parola è riuscito a spendere 80 dollari reali per comprare le mani virtuali da un negozio di ritorno bene nonostante questi due elementi fortemente positivi la scuola dice Zika è rimasta ahimè a livello indicato nella figura di fondo a livello di 20-30 anni fa Zika ha anche ricordato una decisione importante una dichiarazione importante di un organismo significativo della comunità europea che dice l'Europa non può portare il rischio di perdere loro perdono la mano non perdiamo il treno di perdere il treno senza un effettivo insegnamento un efficiente insegnamento dell'informatica esiste un rischio serio che l'Europa diventi un puro consumatore di tecnologie progettate altrove funzionanti su dispositivi costruiti altrove onoro al padre e alla madre qui l'aspetto è molto ricco onoro al padre e alla madre lo interpreta nel senso di interpretare i nostri progettitori dal punto di vista scientifico e culturale ho citato la grance perché in quest'anno noi ricordiamo il duecentesimo anniversario della sua morte vi invito ad andare a vedere la mostra alla biblioteca reale dedicata appunto la grance ma il padre e la madre sono anche le aziende le imprese sto pensando qui alle imprese più importanti la fiat e lo diritto e il padre e la madre sono anche gli strumenti concettuali culturali politiche sui quali siamo arrivati alla società di oggi e questo è lucido che vi presento secondo me e di gran lunga tocca la questione di gran lunga più importante tra l'altro la questione delle tasse ormai in tutto l'arco parlamentare non c'è chi non si dia da fare per ottenere una riduzione delle tasse questa è una chiara manifestazione del difetto fondamentale di alla democrazia il difetto a volte dichiarato secondo il quale una maggioranza del 60% può deliberare di derubare radicalmente la minoranza del 40% e di contare con la minoranza della 40% alla sua schiavitù il nostro paese vive in un momento dalmatico se non aumentiamo le tasse il default è matematico si potrebbe quanto dimostrare condotte argomentazioni basate sui logaritmi se non aumentiamo le tasse non riusciamo a investire in ricerca quello che dobbiamo investire ricordiamo che secondo i rapporti dell'Oxfra nei primi dieci anni di questo millennio il nostro paese ha investito in ricerca e sviluppo all'incirca un terzo della media europea tutti i paesi compresi e parallelamente il PIL del nostro paese è cresciuto all'incirca di un terzo della media europea quindi occorre assolutamente invertire questa politica onorare le tasse così come fanno gli individui di sesso maschile dello specie animale dei tassi quinto comandamento non uccidere non uccidere la scuola non uccidere l'università non uccidere la ricerca scientifica non uccidere le imprese e con un po' di accorrezione sto pensando in questo momento sesto comandamento non commettere atti impuri ovvero le sfumate di moda e la larga banda premetto subito che quando penso agli atti impuri non sto pensando alla concupiscenza delle tette e dei laminetti che impiegato mia moglie sono state affinando un'intelligente operazione di riscrutturazione non sto pensando a questo ma sto pensando a ben altro sto pensando ai rapporti tecnici che leggiamo ogni giorno a proposito dell'Italia Futura dove la prima delle priorità è la larga banda portare la larga banda ai cittadini si parla di nuovi fantastici progetti si parla del G5 e così via ora io comprendo perfettamente che una sfilata di moda con laminetti richiede pixel piccoli 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 tanti pixel piccoli 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 e tanti bit per ogni pixel però prima di portare il gigabit al secondo ai cittadini ricchi bisogna portare i gigabit al secondo alle scuole e agli ospedali settimo non urbale ancora una volta penso alle vere della conoscenza e penso a quell'autentico fenomeno di follia collettiva che è diventato l'istituto del brevetto l'esplosione delle conoscenze degli ultimi anni ha fatto sì che ogni brevetto che viene prodotto in questi giorni in questi anni fa semplicemente ride sono parzellette se volete convincere andate a casa collegatevi a Google e scrivete il padre e il nome di qualunque oggetto catto cane sedia e così via troverete migliaia di prevetti migliaia di prevetti grazie quindi assolutamente assurdi potete per esempio divertirvi a confrontare i brevetti della Apple sulla base delle quali le corti americane condannano Samsung e viceversa i brevetti sulla base delle quali la Apple viene condannata dalle corti asiatiche la colpa del buon Dio che prima delle sue fantastiche invenzioni avrebbe dovuto darsi da fare per depositare agli uffici brevetti tutte le sue invenzioni questo è una luce del pagliato non mi rifassa testimonianza qui ho preso a riferimento l'ex presidente del consiglio un po' di storia durante l'estate pochi mesi prima durante l'estate dell'anno scorso un paio di deputati preone spettando della distrazione dei problemi erano riusciti ad ottenere una legiglia che dice per default le pubbliche amministrazioni devono adottare il sottotitolo allora il governo Monti proprio due giorni prima di decadere ha ritenuto opportuno di porre un rimedio a questa tremenda legge ed è uscito come un decreto legge rido perché sto pensando a Marco che sorride perché insieme hanno scritto il documento un decreto legge che è addirittura divertente perché chiaramente non ha scritto Monti non ha scritto nessuno dei ministri io spero ha scritto direttamente rappresentante nelle multinazionali del software non vi so dire quale la comunità europea vuole che i formati e gli standard di interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni siano aperti ebbene cosa dice Monti a proposito l'utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo perf virgola nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione la semantica della parola italiana nonché spiega tutto sugli altri due punti non ho tempo di soffermarmi vado oltre io non ho votato per Monti ho votato per Versailles ma quando penso alle sue lenzuolate di liberalizzazione penso che sia anche lui un bel campione della falsa costituzione altri esempi sempre a proposito delle quanto manca? mi hai un minuto? sì altri esempi il demonio e a proposito della privatizzazione della Decom il demonio incarnatosi in un economista bravissimo di cui non cito il nome perché obiettivamente lo considero molto bravo forse il più bravo scrisse un paese comunitato dove forse lo deve l'obiettivo di privatizzare le imprese pubbliche l'angelo angelo caffaena scrisse invece a proposito di economia di scala grossi guai derideranno dalla privatizzazione della Telecom a proposito della chiusura dell'olivete di Scarnania il solito demonio incarnato nel solito guru dell'economia la produzione di albero è diventata la cenerentola del settore giusto uscirne presto e chiudere Scarnania l'angelo replicava il personal computer un gioiello tecnologico al cuore forzante della società industriale difendo Scarnania dove ogni odetto produce un miliardo di lire erano ancora infatturato all'anno adesso chiudo veramente volevo solo dire che gli articoli del demonio sono andati in prima pagina come editoriale sull'importante giornale gli articoli dell'angelo è solo uno che è diventato una letterina molto breve e confessa allo stesso tema 9 non desiderare lo hardware altrui viva Arduino 10 non difendere il software altrui viva i milioni di programmatori che hanno il software altrui grazie 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 mi permetto di inserirmi adesso in questo flusso di di relatori e poi visti i tempi abbiamo tranquillamente qualche minuto per una discussione su questa prima batch di speaker le osservazioni che voglio condividere con voi sono le seguenti la prima cosa che come ingegnere come professore in questo teneo ho dovuto cominciare a confrontare ormai più di dieci anni fa è il contrastare la credenza fortemente radicata tra la mia categoria professionale che la tecnologia sia neutra tecnologia neutrale questo viene ripetuto tranquillamente come una somma dimostrato che non abbiano dimostrazione è neutrale e quindi assolvendo noi ingegneri da qualunque riflessione di qualunque tipo è neutrale diciamo tecnologia sarà poi compito di qualcun altro utilizzarla in un modo buono in un modo cattivo allora questa è un'affermazione sbagliata la tecnologia non è affatto neutrale e in particolare il processo che progressivamente anche poi col centro un'ex ma già partendo dalla radice del software libero del professor meo ho progressivamente approfondito con amici collaboratori molti sono presenti in questa sala in realtà l'interessantissimo processo di coevoluzione tra la tecnologia da una parte che impatta la società e la società che impatta fortemente sulla tecnologia quindi approfondendo una tecnologia specifica come internet è assolutamente evidente che quella che magari molti tecnici l'hanno prescoltato l'architettura del personal computer la struttura di internet eccetera è flusso certamente le decisioni tecniche ma in tutta una serie di decisioni che tecniche non erano scelte influenzate innanzitutto dai valori sociali e dai valori politici dei valori del singolo ricercatore che tende a pensare di non averne solo perché non spenda sufficiente tempo ad acquisirne consapevolezza ma poi anche decisioni esplicitamente politiche quindi quando la tarpa nel progettare le prime rette di computazione di pacchetto dare indicazioni pur lasciando ampia libertà ai ricercatori dell'epoca comunque pilotare in quel caso con gentilezza con dei colpetti nudges direbbe adesso l'indirizzare verso certe direzioni piuttosto che altre salva poi intervenire con decisioni autoritative e forti del tipo dal 1981 tutte le cose che compro al Dipartimento della Difesa devono essere TCPIP e in questo modo determinando la vittoria assoluta di un protocollo rispetto a tutti i concorrenti gli esempi potrebbero moltiplicarsi quindi la tecnologia di pressione neutrale ai miei studenti di rivoluzione digitale racconto ovviamente in maniera molto rapida per esempio gli dico leggiamo insieme le 76 domande ragionevoli da domandare a riguardo di qualunque tecnologia di Jacques Elul e quindi chiede se l'impatto ecologico l'impatto sociale l'impatto pratico l'impatto morale l'impatto etico vocazionale metafisico politico estetico di una tecnologia tutto un ampio spazio dove cui io stesso io per primo ma sicuramente la mia categoria deve esercitare questo muscolo capire che un muscolo è importante voi dirò anche da quali punti di vista è importante non soltanto in astratto la seconda osservazione è l'abbiamo toccato in tutta la giornata il professionalismo cioè la consapevolezza l'autoconsapevolezza di essere professionisti allora non è tutt'altro che una cosa ovvia o scontata essere un professionista per parte poi nel mercato specifico italiano addirittura di ordini professionisti nel senso che la società liberale nel corso del tempo ha concesso a determinate categorie di lavoratori un certo livello di autonomia e un certo livello di autonomia vuol dire che a loro è consentito di autoregolarsi per alcune faccende relative alla propria professione a patto che il patto sociale è che vi concediamo questa autonomia a patto che voi vi restiate all'altezza delle aspettative sociali rivolte verso i medici verso gli avvocati verso gli ingegneri eccetera queste aspettative sociali si concretizzano anche in una deontologia professionale e ci ricolleghiamo al discorso che ha fatto benissimo Luciano circoscrivere a far capire che non si riduce soltanto questo ma un discorso di un codice di comportamento che si può estendere anche in una direzione di qual è il ruolo sociale qual è il compito del professionista e di un certo ordine di professionisti in alcuni casi è più facile forse anche perché storicamente l'autoriflessione è stata più evoluta come nel caso dei medici nel caso degli informatici forse anzi direi certamente la riflessione anche per motivi storici non è ancora così articolata e così ricca quindi capire il ruolo dell'informatico dell'ingegnere informatico della società è ancora a passe storicamente meno evoluti rispetto ad altre discipline più antiche detto questo direi che è un momento particolarmente favorevole dal punto di vista storico per parlare di computer ethics o di responsabilità in senso ampio partendo da alcune basi storiche e una abbiamo sentito con grande chiarezza da Angelo Raffalemeo il ragionamento sul software libero è un ragionamento è un movimento è un'industria e tante cose ma è un movimento che è partito da una singola persona che ha fatto un ragionamento etico Richard Stallman il ragionamento sul software libero è un ragionamento etico sul quale ha costruito poi in maniera molto logica e molto razionale la giustificazione per tutto il movimento del software libero questo è una radice importante negli anni decenni scorsi degli anni 80 in avanti da quando nasce in realtà l'industria del personal computer abbiamo anche altri esempi in anni un po' più recenti rispetto al software libero per esempio penso al lavoro fatto da Yohai Benkler adesso professore a Harvard che si è concentrato sull'importanza di reti wireless decentrate aperte quindi le reti mesh la possibilità di avere anche questa tecnologia importante di connessione nelle mani del singolo quindi l'importanza di fasce di spettro bianche cioè liberamente utilizzabili come quelle utilizzate per il wifi questo è un altro esempio di una proposta tecnologica a cui si arriva da una riflessione di tipo sociale ed etico cioè si parte prima dalla consapevolezza dell'importanza di poter dare la possibilità ai cittadini di connettersi via wireless senza impedimenti e poi si arriva alla specifica proposta tecnologica almeno questo dal punto di vista di Yohai Benkler e di parecchi altri oppure ancora in anni ancora più recente pensiamo al lavoro non a caso di una persona fortemente collegata al movimento del software libero come il professore Edel Moglen il professore della Columbia Law School una di queste figure tipiche americane che hanno competenze informatiche giuridiche storiche political sciences e altro dove alcuni anni fa ha fatto in uno dei suoi discorsi magistrali che fa tutti gli anni ha messo in evidenza il problema di piattaforme sociali proprietarie come Facebook e ha proposto una soluzione di nuovo decentrata basata sia su reti sociali distribuite come Diaspora che purtroppo non hanno avuto per il momento il successo che si meritavano o anche hardware e software specifico come per esempio il progetto Freedombox che sta progredendo cioè l'idea di dare a tutti un serverino personale basato su software libero per consentire di controllare in prima persona con il proprio hardware con il proprio software i propri dati personali allora tutte queste basi rendono danno un contesto più ampio a quello che è successo in questi mesi in questi mesi dalle rivelazioni dell'inizio di giugno di Snowden abbiamo una serie di informatici o comunque di discipline molto affine all'informatica che improvvisamente hanno capito hanno gli si è acceso con chiarezza una luce hanno capito che il ruolo importante sociale è la responsabilità etica della loro professione faccio solo due esempi avrete sentito parlare di Barabasi che è uno dei principali inventori della network science cioè lo studio delle reti e Barabasi circa un mese fa ha fatto un vero proprio manifesto in cui invita i ricercatori di big data a prendere fortemente in considerazione le responsabilità etiche che hanno nel progettare algoritmi e sistemi che hanno a che fare con big data altrimenti tutto il sistema MSA e analoghi sistemi sono sostanzialmente grossi sistemi di big data Barabasi non mi risulta avesse mai fatto prima un'affermazione cioè una esplicita posizione pubblica di questo tipo è stato indotto da eventi piuttosto epocali come quello appunto delle realizzazioni prodotte dal signor Snowden la seconda cosa che mi ha colpito è chi si occupa di sicurezza in questa sala conoscerà George Schneier grande esperto di criptografia io mi ricordo quando ero ancora studente di dottorato guardavo un suo libro di criptografia famoso e mi ricordo che all'epoca portare fuori il dischetto associato al disco era pericoloso perché all'epoca la criptografia era ancora considerata un'arma e quindi rischiavo che alla frontiera americana qualcuno mi sequestrasse il dischetto e mi facesse passare una brutta mezz'ora Bruce Schneier dopo la rivelazione del 6 si è svegliato altri prima di lui lo dicevano lui si è accorto adesso ha detto abbiamo dobbiamo assolutamente reagire come ingegneri e quindi l'ultima riunione di ATF di pochi giorni fa dell'8-9 novembre discussione su come far reagire alla sorveglianza di massa quindi la proposta tecnica di criptografare tutto il traffico web poi come farlo è un altro discorso ma per la prima volta ingegneri se ne occupano attivamente in risposta a un evento sociopolitico e Bruce Schneier ha anche molto della sua attività in questo momento in questo momento il fellow al Bergman Center di Harvard della sua attività e di questo tipo come fare partendo da considerazioni etico-politiche a proporre soluzioni tecniche che permettano di soddisfare o migliorare il benessere comune quindi direi che anche per queste riflessioni di oggi anche se si sono concentrate su altri aspetti è un momento particolarmente favorevole per la categoria degli informatici e degli ingegneri informatici riflettere sul nostro ruolo potrei anche citare meno drammatico l'NSA l'open access il Politecnico abbiamo provato insieme all'altro a fare qualcosa e continueremo l'open access cioè la libera disponibilità online delle proprie pubblicazioni scientifiche soprattutto quelle pagate per soldi pubblici c'è chi argomenta come Lawrence Lessig che la te è un dovere etico nel momento in cui sono pagato specialmente come ricercatore pubblico a produrre scienza l'output dovrebbe essere disponibile online per tanti motivi con una motivazione e anche etica tutto questo lo collego e concludo a un percorso storico molto più lungo in realtà la riflessione su gli aspetti etici della tecnologia il ruolo sociale della tecnologia eccetera chiaramente sono vecchi probabilmente letteralmente di secoli però se guardiamo soltanto un'epoca un po' più moderna sicuramente un momento molto importante è stato lo sviluppo della tecnologia nucleare quindi con lo sviluppo della tecnologia nucleare Manhattan Project nasce un movimento di scienziati consapevoli che fossero direttamente coinvolti con Manhattan Project oppure no che si chiedono ma quale è la tecnologia fino a quel momento la posizione di alcuni è stato lo sviluppo della tecnologia nucleare io produco una tecnologia a parte il contrasto della seconda guerra mondiale non sta a me preoccuparmi delle conseguenze a quel punto diventa assolutamente chiaro che invece le conseguenze non possiamo semplicemente disfarce e arriviamo attraversando tutta la guerra fredda fino agli anni 60 inizio agli anni 70 la profonda riflessione che viene fatta in una scuola di ingegneria come l'MIT a cui spesso guardiamo come un modello anche qua al Politenico di Turino dove il coinvolgimento molto forte dell'MIT nel programma del Pentagono e nella guerra del Vietnam portano a un momento di autoriflessione molto spinto degli studenti partono prima gli studenti e poi dei docenti che si chiedono ma qual è il ruolo di una scuola di ingegneria che cosa possiamo fare cosa possiamo fare sia nello specifico contratti col Pentagono risposta poco o niente perché il 90% del budget viene da lì ma almeno cosa possiamo fare dal punto di vista educativo quindi in che modo possiamo insegnare agli ingegneri in maniera diversa per includere riflessioni di tipo etico di tipo sociale e anche l'aspetto della ricerca vogliamo prendere qualcuno che ci aiuti e qui vi consiglio se siete interessati leggere la trascrizione molto bella del dialogo tra il presidente dell'MIT è membro di un comitato con Noam Chomsky nel 1969 dove riflettono proprio concretamente cosa facciamo assumiamo degli umanisti in che modo gli facciamo interagire con chi insegna matematica fisica ingegneria in che modo possiamo insegnare i corsi c'è una riflessione molto interessante della parte ancora attuale che provoca nell'MIT e poi in tutte le università americane più importanti la creazione di graduate schools su science technology and society cioè il filone di cui vediamo oggi un aspetto specifico nel 2013 in realtà in tempi moderni nasce alla fine degli anni 60 con questa creazione di scuole quindi per quello che riguarda noi e concludo riflettendo sulla nostra disciplina informatica e in generale informatica la consapevolezza di introdurre elementi storici per esempio sono sicuramente la storia estremamente utile e interessante per capire che certe cose che affrontiamo le abbiamo già affrontate prima con tecnologie precedenti gli aspetti etici e questa è la giornata di oggi gli aspetti di impatto sociale quindi chiedersi qual è questa interazione tra digitale e società è sicuramente una direzione che ci arricchirebbe e tra l'altro sarà di una direzione che porta anche a soluzioni informatiche più robuste e migliori e qui mi aggancio a un discorso ottenuto in questo ateneo nel 97 se ben ricordo da Ken Keniston non a caso professore all'MIT che aveva parlato della crisi dell'algoritmo dell'ingegnere cioè di come l'ingegnere per avere soluzioni più efficace ha bisogno di allargare lo sguardo e includere anche una riflessione di tipo sociale più ampio e quindi la sfida era in un certo senso già chiara all'epoca ma lo è ancora oggi ancora di più oggi di fronte a questi nuovi sviluppi che ho accennato prima grazie allora guardando i tempi proporrei se ci sono per i nostri primi quattro speaker prima di far salire sul podio il secondo gruppo di tre speaker delle domande dell'osservazione delle chiose relativamente ha sintetizzato varie cose che ho detto prima e in particolare ha toccato un punto che mi sembra dal punto di vista pratico e più urgente più attuale vale a dire lei ha messo in rilevo percorrendo la storia dell'informatica americana essenzialmente come in varie occasioni storico-politiche gli ingegneri si siano sentiti in dovere di riflettere ma anche di poi fare delle cose ingegneristiche per venire incontro alle nuove esigenze ora lei ha detto anche che in questo momento c'è una particolare attenzione a questi argomenti io mi riferisco soprattutto alle autorità europee che in questi due mesi hanno detto le cose più svariate tipo bisogna fare un internet europeo bisogna fare un cloud europeo bisogna fare un google europeo bisogna delocalizzare i dati dei cittadini europei in Europa ora ho anche su certi giornali di Cospito che sono particolarmente attenti si dice ma con quali informatici visto che i nostri non sono capaci allora secondo lei la professione informatica primo è interessata a questa evoluzione secondo diciamo si rende conto che potrebbe essere un grosso business per gli informatici europei e terzo si sente tecnicamente preparati a farlo allora su uno e su tre non so rispondere non lo so neanch'io me lo chiedo anch'io sul due sull'opportunità di business in realtà è diventata rapidamente chiaro a tutti che c'è un'opportunità di business si quantificano gli online service provider americani quantificano la perdita già in miliardi di dollari di servizi persi e alcuni per esempio svizzera molto intelligentemente si è proposta come per analogia con la sua esperienza bancaria come un possibile cloud provider sicuro e quindi gli svizzera si è molto rapida nel codio dell'opportunità ma lo stesso potrebbero farlo anche altri paesi europei su uno e su tre magari lascio la parola ai miei colleghi se hanno qualche idea più chiara della mia allora uno è se hanno interesse gli informatici europei e occuparsi se mi correga se sbaglio e terzo se hanno le competenze per farlo per proporre delle contromisure tecniche il punto sul tre sulle competenze non ho perché meno un dubbio che abbiamo le competenze ne sono certo l'aspetto drammatico ancora una volta legato alla politica industriale adottata dal nostro governo credo di aver perduto negli ultimi dieci anni almeno 20 ricercatori questi ricercatori erano bravissimi avrebbero voluto rimanere lavorare con noi ma sono stati costretti ad andare all'estero perché noi non gli offrivamo nemmeno un posto di ricercatore precario c'erano dei giovani in quel gruppo che avevano i titoli e l'età che avevo io quando sono andato in cattedra ma sognavano un posto da ricercatore precario e sono andati in Svizzera in Francia in Inghilterra uno non ricordi che si era innamorato di una ragazza di dove era? messicana che si era innamorato di una ragazza messicana conosciuta a un congresso e ovviamente è andato in Messico che ora rappresenta già il Messico in alcuni consensi internazionali quindi la testa ce l'abbiamo io sono convinto che soprattutto in questo territorio che ha da ricercatore in Torino ci sia un genius loci che ha prodotto cose meravigliose la chimica è nata qua la grange è uno dei più grandi matematici di tutti i tempi la nitroglicerina è nata qua adesso se vogliamo non ho avuto il tempo di parlarne ma Arduino è un'ulteriore manifestazione del genius loci che aleggia quindi sono profondamente convinto che avremmo tutte le competenze necessarie per entrare in questo settore buongiorno ho sentito parlare di deontologia professionale di importanza della formazione ecco secondo me è anche importante mettere sul piatto spero di non andare troppo fuori tema l'importanza che ha per la nostra categoria insomma noi come informatici la formazione della società a quelli che sono i rischi nell'uso delle tecnologie perché è un argomento di cui la società non è ancora così informata e per cui forse è importante che il nostro ruolo sia anche quello di prenderci diciamo questa responsabilità e cercare di capire come formare i rischi e alle buone pratiche etiche sia ai singoli individui nelle loro pratiche quotidiane ma soprattutto anche la nostra pubblica amministrazione che molto spesso tende a fare delle scelte per ovviamente ignoranza della parte politica che diciamo non si confronta probabilmente con gli esperti di settore delle scelte avventate o spesso addirittura errate su temi che però saranno poi cruciali nel futuro facendo un breve esempio noi i nostri dati anagrafici le anagrafi comunali e tutto quanto vengono gestiti da software di aziende private sulla base per esempio della località cioè a Torino si sceglierà un'azienda noi abbiamo il CSI a Torino quindi per fortuna forse quello è un po' più sinonimo di garanzia se vogliamo però molto spesso in alcuni comuni più piccoli si sceglie l'azienda del comune vicino che gestirà i dati di quel comune con una scarsa interoperabilità con i dati del comune vicino e con i dati ancora regionali quando non statali eccetera forse sarebbe importante dare delle linee guida prenderci un pochettino questa responsabilità grazie infatti siamo totalmente d'accordo su questo perché il ruolo dell'informatica non è più soltanto quello di conoscere hardware e software come mescolare assieme per fare un certo tipo di lavoro ma è una responsabilità sociale ormai l'informatica le tecnologie digitali chiamano più facilmente le tecnologie di rete meglio ancora per dire più precisamente sono tecnologie sociali cioè che occupano tutta la società il funzionamento e il vantaggio che hanno le tecnologie digitali di rete nella società si manifestano solo se tutta la società si muove nella stessa direzione è come quando uno dice che un'ormosa legge e dice quando c'è un telefono solo non serve a niente due telefoni permettono una comunicazione se crescono c'è un in modo quadratico con l'aumento del numero dei telefoni lo stesso qui siamo in una società che deve crescere in cui tutti nessuno escluso in qualche modo partecipa dal suo punto di vista come cittadino come utente come lavoratore come dipendente da pubblicizzazione come docente tutti quanti no? allora il ruolo dell'informatico che è molto importante in questa fase deve essere quello che deve avere la capacità di ancora di diffondere queste tecnologie nella società nel modo giusto attraverso un rapporto che riguarda la scuola ma riguarda le professioni il lavoro comunque questo deve essere ormai non ha più senso io quando parlo ad esempio molto spesso con i CIO voi sapete che sono i CIO CIO Information Officer i quali sono una popolazione in parte alcuni sono bravissimi ma altri sono frustratissimi perché sono hanno soltanto un compito nelle aziende quello di ridurre i costi tagliare i costi dipende dal CIO Financial Officer che gli dice guarda il budget del prossimo anno deve essere 10-15% in meno perché poi adesso la tecnologia di comunicazione adesso c'è Skype mettiamo tutto su Skype così risparmiamo invece le aziende intelligenti considerano che il Chief Information Officer ovvero io lo chiamo il Chief Innovation Officer non più Information perché deve diventare il centro della ristrutturazione organizzativa dell'azienda e delle sue strategie quindi è un ruolo importantissimo ho visto pochissimi casi di CIO a primo livello dell'azienda che dialogano con il nostro delegato che interagiscono questo per dire a un certo punto qual è il ruolo importante della figura dell'informatico su cui noi dobbiamo costruire siamo carenti dobbiamo ragionare su quelli su informatici che sono già laureati pronti eccetera ma su questi costruire un valore aggiunto ulteriore per cui devono intervenire nella società e cambiarlo questo è il punto come hanno fatto in altri paesi questa è la missione che ha e si propone assieme all'università cioè di lavorare assieme per costruire questa nuova generazione che deve entrare nel mondo in un mondo nuovo che è totalmente diverso non è più il mondo tradizionale pensate cosa vuol dire anche la produzione produrre oggi non è più un produrre tradizionale produrre attraverso sistemi di automazione produttiva di digitalizzazione della fabbrica pensate cosa vuol dire oggi quante fabbriche stanno lavorando con gli stampanti 3D di grosse dimensioni è un cambiamento radicale culturale mentale e questo bisogna che siano gli informatici che aiutano a fare questa rivoluzione quindi mi auguro veramente che si possa lavorare tutti assieme per questo allora un'ultima domanda prego non c'è prima non avevo visto prima ma eh due cose prima un'osservazione sui discorsi l'ultima domanda che ha fatto io credo che uno dei dei doveri che abbiamo come universitari è quello di ecoinformatici è quello di attrarre i giovani migliori e questo secondo me non lo stiamo più facendo quindi noi abbiamo eh questo non vuol dire che tra i laureati di informatica non ci siano dei ragazzi assolutamente in gamba questo è sicuro però noi non abbiamo più la capacità di attrarre veramente i migliori in modo complessivo e questo è un problema credo che non sia un problema solo italiano la seconda osservazione era questa si parla di di etica di responsabilità cioè io sono d'accordo con quello diceva Florini prima cioè è importante l'etica e la responsabilità in assoluto non tanto il fatto di regole specifiche per quanto riguarda eh la professione quindi un'altra un altro aspetto che noi abbiamo o un'altra osservazione che noi dobbiamo fare è quello di insegnare veramente l'etica in generale ai giovani questo è un problema perché altrimenti succede quel che succede cioè noi adesso guardiamo adesso mi veniva in mente l'esempio dei concorsi universitari ma la stessa cosa vale per i mandi di gara la burocrazia ci impone di sostituire l'etica con dei dati che sono presunti oggettivi no? quando si dice poi si dice agli universitari guardate voi avete perso l'etica oppure a quelli che fanno le gare per voi avete allora dovete fare riferimento esclusivamente ai dati quindi a dei dati che poi sono oggettivi non lo so quindi il fatto di sostituire l'informazione all'etica l'informazione non so se quanto oggettiva ecco queste sono le allora io faccio un allogio di incertezza dal mio punto di vista che non è una funzione dell'ignoranza ma è una funzione della conoscenza e chiedo a Maika nel momento in cui definisce che cos'è e che cosa non è etica per un computer scientist e così via di aggiungere sempre quello che io ho sempre fatto in vita mia o cultura equilavente perché quando si chiude soprattutto in Italia con dei limiti precisi nel calcio il discorso fatto prima si è quasi certi di tanti al fuori i migliori tra virgolette quindi lasciate sempre soltanto uno spazio volete un commento di parte di qualcuno forse voglio diciamo secondo la domanda dalla peraica dico ritengo che qui sia un problema come e mi ricollego a quello che ha detto prima Patrignani cioè che un discorso di etica non deve essere fatto con punizioni o con codici rigidi ma deve essere fatto per integrare il comportamento nella attività di un professionista quella che io chiamo l'embedded ethics cioè in qualche misura integrata nella persona io mi sono occupato perché poi sono uno strano sono un economista che si occupa di informatica non sono informatica ma comunque nei miei corsi universitari in cattolica io ho trattato molto di problemi che vanno oltre l'etica computer ma la business ethics perché poi alla fine entriamo nel mondo degli affari dove in effetti l'etica è molto più problematica che nel mondo dei computer non vi è dubbio su questo la mancanza di etica è assoluta e l'abbiamo visto in mille casi però qui il problema vero è che quando io scopro invece che la business ethics non è un codice e non è nemmeno un bilancio sociale una cosa di questo genere formale ma è un comportamento integrato ad esempio di considerare l'operatore l'imprenditore con un operatore di un bene comune cioè è quello che io vi dico sempre partendo dagli esempi che ho ricavato da tantissimi casi italiani per cui sono ottimista che l'Italia va nella direzione giusta tanti casi italiani di gente di aziende che stanno andando bene perché sono eticamente responsabili si occupano del bene comune sono socialmente responsabili perché io dico e concludo sempre dicendo che alla fine dei conti anche per un imprenditore l'etica pari ha un ritorno non è un fatto che viene fatto così aggiuntivo tanto per migliorare la facciata ma è così questo deve essere anche il ragionamento che dobbiamo adottare in aica per la riflessione della persona con questo ringrazio molto i nostri primi quattro relatori grazie ai vostri interventi e invito sul palco il professor Marco Mezzanama il professor Franco De Costini e il professor Massimo Duranta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti